Paura del diverso e di sue possibili origini. Circa un secolo fa Freud diventò una delle persone più influenti del mondo, dicendo in sostanza una cosa abbastanza semplice. Noi esseri umani siamo una specie animale, per quanto molto complessa, frutto di un'evoluzione, quindi abbiamo un corpo degli istinti. Se questi istinti che devono essere espressi in forme civili vengono troppo compressi, si hanno poi le nevrosi, i disturbi mentali. Chiediamoci se non ci sono, naturalmente la sessualità oggi, dopo un secolo, ha trovato infinite espressioni più libere per esprimersi. Ma chiediamoci se non ci sono altri istinti che invece non hanno ricevuto questo allargamento del loro campo o addirittura il cui campo di espressione si è ristretto. se per esempio abbiamo un cane, notiamo che anche se vive in un appartamento cittadino ha conservato un istinto del territorio. Che ne è dell'istinto del territorio della specie Homo sapiens? Nella nostra evoluzione eravamo già Homo sapiens quando siamo passati da nomadi a stanziali con la invenzione dell'agricoltura, ma anche nel corso della storia, fino all'inizio del Novecento, gli storici ci dicono che l'individuo normale, medio, persino in Europa, la stragrande maggioranza, conosceva 200 persone nella propria vita. Questo non poneva grandi problemi di spazio né di diffidenza, che naturalmente si mette in moto è un altro istinto necessario, non possiamo fidarsi di tutti. Quando qualcuno entra nel nostro spazio, tra l'altro abbiamo visto da allora la popolazione dall'inizio del Novecento si è moltiplicata per quasi otto volte. Nel secolo scorso, nell'ultimo secolo, c'è stata un'urbanizzazione travolgente e dieci anni fa le Nazioni Unite hanno comunicato che la popolazione del mondo è a maggioranza urbana e la sproporzione continua a aumentare perché masse immense continuano a trasferirsi nelle città, perché offrono più opportunità, anche se offrono per esempio i disturbi mentali sono infinitamente più alti nella vita cittadina. Cosa succede nelle città? Noi incontriamo non centinaia ma migliaia di persone, se usciamo, non nella nostra vita ma ogni giorno. e se qualcuno va al lavoro con i mezzi pubblici, per esempio la metropolitana, siamo costretti a stare con un altro centinaio di persone così. Una cosa piuttosto innaturale per il nostro istinto del territorio. Notiamo tra l'altro che i famosi 200 corrispondono quasi esattamente a ciò che le modernissime neuroscienze ci dicono è una funzione principale del nostro cervello. Cioè il nostro cervello è fatto per immagazzinare fino a 150 volti. arrivando ai 200 comincia ad entrare in confusione, di più non li riconosce. Questo significa, dicono per esempio i neuroscienziati, che i social stanno ingannando radicalmente le nuove generazioni perché gli dicono avrete migliaia di amici. Il che, dicono, è assolutamente impossibile. A meno di non falsare e svuotare completamente un concetto importante come quello di amicizia. Comunque, noi siamo compressi, per esempio nei vagoni, e i nostri istinti sono violentati, la nostra buona educazione ci impedisce scopi di aggressività. Ma sarebbe impossibile imporre anche agli animali più intelligenti, più vicini a noi, come gli scimpanze, di richiudersi in centro in un vagone. Tutto questo è notevolmente aggravato, questo senso di disagio, di diffidenza, negli ultimi tempi dal fatto che molte delle persone con cui condividiamo lo spazio sono improvvisamente, doppiamente sconosciuti. Cioè sono immigrati, il nostro era un paese di emigrazione, non esistevano, no? Sono diversi per colore a pelle, per lingua. E purtroppo anche qui gli studiosi degli istinti ci dicono a un certo punto questa sovrapposizione tra natura e cultura, gli istinti vengono ingannati e non li riconoscono più come appartenenti alla specie umana. Cioè scatta l'aggressività che noi abbiamo verso le altre specie. Facciamo un passaggio dagli istinti dell'individuo ai grandi movimenti della storia. sappiamo che nel secolo scorso Hitler provocò una delle maggiori catastrofi che si ricordino perché propose come spiegazione semplicissima, di nuovo quasi animalesca, istintiva alla Germania in uno stato di ansia senza precedenti a causa della sconfitta della prima guerra mondiale e successivamente della grande inflazione senza precedenti per cui non si sapeva come si sarebbe vissuti al domani la spiegazione che il paese stava degenerando perché perdeva la sua purezza razziale necessaria. Oggi sappiamo che il concetto di razza che si usava è antiscientifico e accusava gli ebrei di complotto non tentò mai di dimostrare neanche l'esistenza di questi complotti passò direttamente alle leggi razziali, costruzione di campi di concentramento, poi di sterminio, poi guerra. Questa intolleranza anche delle diversità minime è nota alla psicopatologia come paranoia e il paranoico è una persona così incapace di psicologia che non riesce a riconoscere nessun errore dentro di sé e quindi segue dei meccanismi istintivi per cui, visto che l'errore esiste, deve sempre puntare il dito contro un autore dell'errore esterno. Notiamo che a differenza di altre forme di patologia mentale la schizofrenia, la depressione che escludono della società la paranoia ha questa particolarità pericolosissima che in mano a persone dotate di potere politico funge addirittura invece non da esclusione ma da moltiplicatore del loro potere in momenti di ansietà collettiva particolare. e l'antropologia qui ci dà un suggerimento e cioè che in tutte le società, di nuovo a livello molto semplice di reazioni, cioè nelle società tribali a uno stadio primario, esistono dei riti di questo tipo purificatori, il rito del capro espiatorio. Cioè moltissime società tribali che vivono, che so io, semplicemente di caccia se un anno c'è poca selvaggina non si chiedono come noi qual è il motivo razionale per questa assenza. non cercano una spiegazione magica, si chiedono chi ha gettato il malocchio identificano il portatore del malocchio, lo sacrificano e, antropologia e psicanalisi ci dicono, effettivamente ottengono per un tempo limitato un sollievo. Funziona come psicoterapia collettiva non molto diversamente da come Hitler o Stalin in una scala molto più immensa, additando il nemico razziale o di classe, ottenevano un certo consenso proprio nella popolazione traumatizzata dalle loro stesse politiche repressive. A questo punto passiamo ai nostri tempi e chiediamoci se abbiamo sempre bisogno di spiegazioni irrazionali o, con tutti gli strumenti culturali di cui disponiamo, non potremmo diventare effettivamente più ragionevoli. In realtà il progresso tecnico e scientifico non è necessariamente seguito da un progresso morale. Sono 500 anni che abbiamo la stampa, eppure continuiamo ad accorgersi del fatto che i mass media che ci mettono sempre più informazioni a disposizione alle volte ci offrono più verità, alle volte invece moltiplicano non la verità ma la falsità. con la fine del secolo scorso è entrato in gioco anche internet, altro passo immenso nel progresso tecnico. E tuttavia già dall'inizio è stato studiato il cosiddetto paradosso di internet. e cioè se io voglio diventare più competente in qualcosa internet mi dà informazioni crescenti, quindi il mio sapere cresce, ma di nuovo siamo umani fino a un certo limite. Se voglio farlo crescere all'infinito cresce la mia confusione dopo una certa soglia invece della vera competenza. e negli ultimissimi anni a questo si è aggiunto anche l'uso dei social. I quali di nuovo ci danno il grande vantaggio di arrivare a moltissime persone in tutte le direzioni e tuttavia gli studi sui social ci dicono che tendono tutti a privilegiare messaggi particolarmente brevi. i messaggi brevi sono purtroppo più non quelli che contengono degli studi e delle spiegazioni accurate ma le semplificazioni aggressive e accusatorie cioè di nuovo un puntare il dito e cercare il capro espiatorio tant'è vero che probabilmente saprete che ci sono stati dei morti a causa di questo. in certi paesi sono stati postati su facebook informazioni calunniose su certe persone e la conseguenza sono stati dei linciaggi. poi il post falso viene tolto ma intanto le persone sono morte. se veniamo al nostro paese e a questi tempi c'è una cosa che è oggettiva di cui abbiamo una paura che però può trascendere nel paranoico la paura dell'attacco terrorista in sé fenomeno assolutamente oggettivo tuttavia anche in Italia mentre ci sono stati attacchi gravi in Francia anche in Italia abbiamo molti casi di persone ansiose che dicono da quando c'è il terrorismo io non esco più di casa eppure se guardiamo alle statistiche il terrorismo in Italia non ha ancora fatto vittime il terrorismo islamico in realtà sono state delle vittime ma della paura del terrorismo quando a Torino una folla è fuggita calpestandosi per timore di un attacco terrorista che non c'era stato la persona che dice io non esco di casa perché fuori potrebbe esserci un killer non dice io non esco di casa perché c'è un killer che si chiama inquinamento atmosferico eppure l'Agenzia Europea dell'Ambiente ci informa che fa più di 84 mila morti all'anno in Italia e quasi mezzo milione ormai in Europa continente pulito vediamo finalmente questo diagramma che rappresenta i principali paesi europei e in essi la presenza di immigrati musulmani che sono ovviamente quelli che ci fanno paura perché fra di loro possono nascondersi i radicali terroristi la linea gialla indica la loro percentuale reale quella grigia indica quanto le inchieste dicono che il pubblico crede sia la presenza dei musulmani la linea grigia vedete che è ampiamente superiore al dato reale cioè c'è un pericolo reale ma c'è una paranoia che è ancora più grossa in mezzo a questi dati preoccupanti vediamo però una buona notizia la differenza tra dato reale e dato fantasticato la paura immaginaria è massima in Ungheria dove si ritiene che gli immigrati islamici siano ben 70 volte più di quanto sono in realtà cioè tutto è paranoia è minima invece in Francia e in Germania pur essendo sempre molto alta dove abitano milioni e milioni di immigrati islamici e lavorano insieme alla popolazione locale da tempo questo significa in sostanza che la miglior difesa contro una degenerazione di una paura reale in una paura paranoica sta nel conoscere chi è diverso nel non puntare il dito ma collaborare con lui e riconoscere che è umano per quello che riguarda l'inquinamento ambientale naturalmente il dito che dovremmo cercare di non puntare troppo fuori dovrebbe rivolgersi qua grazie